Una mostra agile e veloce, capace di coinvolgere tutti attraverso l'uso della multimedialità, come nella tradizione del Museo Diffuso della Resistenza di Torino. Adolescenti, bambini, cittadini di recente immigrazione, uomini e donne di tutte le età e tutte le provenienze sociali, chiamati a parlare in prima persona e a confrontarsi sui temi dei diritti e della democrazia. Le installazioni multimediali e interattive che compongono la mostra Diritti al Cubo sollecitano la riflessione sui problemi, le aspettative e le possibili difficoltà che la società in cui viviamo pone a ciascuno di noi. Il percorso in continua evoluzione grazie a un inedito approccio colloca il pubblico al centro dell'installazione e fornisce materiale prezioso per disegnare la geografia sociale di questa nuova e vecchia Italia e dei suoi cittadini per non dimenticare il passato e soprattutto per costruire consapevolmente il proprio futuro. È un momento delicato soprattutto perché ci sono in corso delle trasformazioni economiche e sociali che chiedono una verifica della condivisione dei principi su cui noi fondiamo la nostra vita democratica. Possiamo dire che tutti la pensiamo allo stesso modo, che le parole significano per tutti le stesse cose? Forse no. Un po' perché le parole non hanno mai un significato univoco, un po' perché le generazioni si sono allontanate anche nel tipo di apprendimento, nel tipo di interessi, nel modo di conoscere le cose. Allora questa mostra cerca di rispondere a questa sfida perché è veramente una sfida. La mostra fa parte di un progetto più ampio iniziato con l'allestimento permanente del Museo Torino 1938-1948 dalle leggi razziali alla Costituzione e completa la precedente mostra I giovani e la Costituzione presentata al Museo dal 3 aprile al 21 giugno 2009 che ha coinvolto numerosi studenti delle scuole medie inferiori e superiori di tutto il Piemonte.